Sono cinque i pugliesi che sicuramente andranno a Bruxelles, anche se potrebbero diventare sei, con la rinuncia da parte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oltre al sindaco uscente di Bari, Antonio De Caro, esponente del Partito Democratico, che ha raccolto poco meno di 500.000 voti, staccano un biglietto per l'Europarlamento tre esponenti di Fratelli d'Italia. Si tratta di Francesco Vento, la capogruppo del partito in Consiglio regionale, che ha conquistato 88.000 preferenze, e Michele Piccaro con quasi 55.000 voti. Ai due potrebbe aggiungersi Chiara Gemma, la professoressa universitaria salentina, se la premia rinuncia al suo euroseggio. Il Movimento 5 Stelle in Puglia elegge Mario Fulore, 36enne di Foggia, che porta a casa 38.000 voti, ed è eurodeputato uscente, con lui Valentina Palmisano, attualmente presidente del Consiglio a Ostuni. Non sono stati eletti invece la ex sottosegretaria Teresa Bellanova e il commissario della Lega in Puglia Roberto Marti.